Taglio del nastro a Marotta di Mondolfo per il nuovo parcheggio vicino alla stazione ferroviaria, un'opera attesa da tempo dalla cittadinanza e costata al comune oltre 200.000 euro. La struttura è stata realizzata su una parte di area ferroviaria dell'ex Scalo Merci e sarà in grado di rispondere alle esigenze dei turisti durante la stagione estiva e degli studenti e lavoratori pendolari durante il resto dell'anno. Sì, un'opera davvero attesa da tantissimo tempo perché se ne parlava da tanti anni e sembrava una cosa impossibile realizzarla. Sono soddisfatto come sindaco di aver realizzato un'opera così importante per tutta la nostra comunità e da due anni in questi due anni di mandato e direi che è veramente un bel risultato. Quanti parcheggi sono stati realizzati? Sono 66 posti auto di cui due per disabili e quindi è stato un investimento importante da parte della nostra amministrazione comunale grazie anche alla collaborazione con RFI. Dunque è un grande lavoro di squadra? Sì, un grande lavoro di squadra perché l'RFI, questa è l'area di proprietà di RFI che ci ha concesso in locazione al comune di Mondolfo. Abbiamo firmato questa convenzione nel 2017 e a novembre del 2017 abbiamo iniziato i lavori per poi finirli pochi giorni fa. La provincia ci ha sostenuto nella fornitura di alcuni materiali per la realizzazione dell'opera. Quindi direi un lavoro di squadra con tutte le ditte, tanti professionisti che hanno lavorato per il comune di Mondolfo e per tutta la comunità.